Le pubblicità ti dicono che puoi risparmiare fino a 500 o 1000 euro sulla tua polizza auto. Sì, certo, peccato che sia una piccola, piccola, piccolissima bugia. Perché una bugia? Perché nella maggior parte dei casi materialmente quel risparmio non c'è. A meno che tu non vada a rinunciare a tutta una serie di garanzie che la maggior parte delle assicurazioni online non ti può dare. Facciamo un esempio. Tu hai una macchina nuova che ha un anno, due anni, cinque anni e che ha un bel valore di mercato. Vai online e cerchi di assicurarla anche per gli eventi vandalici, cerchi di mettere anche la grandine. Ecco, se non guardi e non leggi le condizioni contrattuali, la maggior parte delle assicurazioni e delle compagnie non ti farà mettere quelle garanzie. E quelle che te lo faranno mettere avranno franchigie e scoperti altissimi o in alcuni casi ti diranno, scritto, solo dopo che hai stipulato sul contratto, coperto fino a, magari fino a 2500 euro ed invece la tua macchina vale 12.000 euro. Grazie.